Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo trovati bene con la mia famiglia, vabbè che le mie origini sono anche di lì, quindi ci siamo trovati bene. Ho avuto poca fortuna a livello calcistico, potevo fare sicuramente di più, però diciamo che non mi sono trovato bene con un allenatore, non ho fatto quello che tutti quanti ci aspettavamo. Per il resto Trabani fa parte della mia famiglia, della mia carriera e un giorno sicuramente tornerò a vivere là. Senti Davis, tu come sai, noi siamo in diretta anche su Facebook, oltre che sul canale 87 di Ultima Sport e quindi sono tutti i tifosi che ci stanno seguendo e stanno interagendo con noi. E sono arrivate subito le prime domande per te. La prima te la fa Carmelo Furnari e ti dice ciao Davis, come hai reagito personalmente dopo quel maledetto pareggio della Casertana? Ma io ero in panchina che stavo aspettando il fischio finale perché ero stato sostituito, non arrivava mai, poi c'è stata questa punizione, eravamo messi male, purtroppo la palla è andata a finire là dove c'erano i tre attaccanti loro e c'era solo Barai da parte nostra e abbiamo subito questo pareggio. Però ripeto, l'importante è che non abbiamo perso perché una sconfitta era ancora più difficile da digerire. Senti, c'è già, anzi faccio una premessa, ti ricordo che fra tutte queste domande che arriveranno tu puoi dover riusciargli una e questa, quella che tu sceglierai, vincerà un biglietto per la prossima partita interna del Catania. Io ti stavo chiedendo, un pareggio, tu hai sottolineato giustamente un pareggio importante su un campo difficile, eppure c'è già chi dopo questo pareggio ha incominciato a dubitare di mister Sottile e delle qualità di questa squadra. Cosa ti senti di dire, di rispondere? Visto che tu sei uno dei simboli di questa squadra. No, io dico ai tifosi di comunque stare tranquilli, sostenerci perché abbiamo passato tutti quanti, noi e voi, dei mesi difficili. Non è stato facile ripartire dopo quello che è successo, ma siamo partiti col piede giusto, abbiamo fatto due vittorie e un pareggio. Tra l'altro, ripeto, al 91esimo ci hanno segnato, mi sembra, quindi era quasi la terza vittoria su tre partite. Vi chiedo solo di starci vicini, anche se arriverà qualche momento di difficoltà, come è normale che sia. Sono sicuro che quest'anno raggiungiamo tutti quanti quello che ci spettava già quest'estate. Giuseppe Manganano ti dice, ciao Dennis, è meglio il calcio in Italia o in Germania? Negli ultimi anni sicuramente il calcio tedesco ha superato un po' il calcio italiano. Per i problemi che si sono visti in Italia anche di recente, sicuramente quello è un grosso problema che ci portiamo dietro. Sicuramente la Serie A, fino a 7-8 anni fa, era il campionato più bello al mondo. E quindi speriamo di tornarci e che le cose si sistemino, si faccia un po' di piazza pulita e ritorna ad essere la Serie A di una volta. A proposito di Germania, io chiederei alla regia se manda qualcosa che riguarda le tue origini come calciatore. Perché tu hai vissuto tanti anni in Germania, sei nato e cresciuto in Germania, hai vissuto in Germania, ti sei formato calcisticamente in Germania. In una delle formazioni più belle, più importanti e storiche del calcio tedesco, che è il Fortuna Köln, come puoi vedere. Noi abbiamo trovato, grazie al solito complice, un Davis Curiale, ora ti offenderai intanto coi capelli, e poi giovanissimi. Quanto è stato importante iniziare a giocare a calcio in una società strutturata come quella del Fortuna Köln? Sicuramente era una società importante, tuttora sta tornando di nuovo ad essere ai livelli di una volta. Quando io ero nel settore giovanile, era in Serie B fissa la prima squadra, la seconda squadra di Colonia, e ho fatto cinque anni nel settore giovanile, dove mi ha fatto crescere molto. Infatti quando sono tornato in Italia ho lasciato questa società a malincuore, perché avevo fatto benissimo, ero il capocannoniere della squadra, ho lasciato tanti amici con cui avevo un rapporto eccezionale, e tuttora mi ci sento, quindi la Germania è una cosa molto importante. Forse il tuo unico rammainico è non aver potuto giocare con la maglia dell'FC Köln? Sì, quello era un sogno da piccolo, ci ho sempre sperato di arrivarci, poi per il mio percorso personale di vita siamo dovuti tornare in Italia, in Sicilia, quindi questo sogno si è un po' svanito. Senti, invece c'è Davide Villaggio che ti dice Ho visto seguendoti sui social che oltre al calcio la tua passione è il cibo. Se dovessi scommettere una cena in caso, scommetteresti una cena in caso di promozione in Serie B? Ah, volentieri, sì. D'estate vi lascio un po' andare perché tutto l'anno facciamo diete, quindi non possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, e d'estate il pesce fresco delle parti nostre me lo godo. C'è poi, questa è una domanda che dovevi aspettarti, Ciao, ciao Davis, questo da Stefano Lazzara, quando abbiamo acquistato Marotta, lo hai rimproverato per il gol che ci ha eliminato? No, con Marotta in campo, in semifinale, ci siamo anche litigati, qualche battibecco così, però c'era comunque grande stima reciproca. Quando ci siamo ritrovati qua ho saputo che era in camera con me, e quindi abbiamo subito fatto pace e creato un bellissimo rapporto d'amicizia. A proposito di Alessandro Marotta, è un napoletano e come tutti i napoletani, diciamo come tutti i meridionali, sono un po' scaramantici, hanno i loro riti. Tu sei scaramantico? Sì, anche io sono scaramantico. Hai un rito prima di una partita? Ne ho un bel po', quindi non si possono svelare perché sennò finisce la scaramanzia. Però, no, e invece come ti prepari una partita? Beh, innanzitutto mi preparo mentalmente, poi sono abbastanza tranquillo, riesco a ridere e scherzare, poi quando entro in campo mi trasformo, sono un ragazzo abbastanza tranquillo, non sento così tanto la partita che mi isolo, queste cose qua. Sono tranquillissimo perché comunque il calcio è il nostro lavoro, sì, però deve essere anche la passione che avevamo da piccoli e deve rimanere anche una passione. Io proseguo a leggere ciò che scrivono i tifosi. Lori e Alfio ti scrivono, ciao Davis, preferisci giocare come da prima punta o in coppia con Alessandro Marotta? Ma è indifferente, però credo che avendo due attaccanti di questo calibro, secondo me in questa categoria è un grande potenziale, secondo me insieme possiamo fare molto bene. Matteo Pino ti chiede, cosa significa per te giocare in questa squadra, con due cuori, uno rossa e uno azzurro? Ma Catania per me significa molto perché è stata la società che mi ha dato una grande opportunità di giocare dopo due anni bui nella mia carriera, dove comunque avevo passato momenti difficilissimi e il Catania ha creduto in me e sono rinato come giocatore, quindi mi sono legato anche ulteriormente fino al 2021 e come ho già detto quando ho firmato il prolungamento voglio riportare il Catania in Serie A insieme ai miei compagni. Evis, tu hai avuto nella tua carriera tanti tecnici, qual è quella a cui ti sei legato maggiormente o a cui sei rimasto più legato? Intanto il mister Pergolizzi che è stato quello in primavera che mi ha fatto esplodere con cui ancora mi sento e poi a livello professionale sicuramente il mister Stellone mi ha dato tanto ed è un allenatore molto molto preparato che secondo me farà una grande carriera anche da allenatore. A proposito di allenatori e a proposito di quello che diciamo prima che dopo il pareggio di Caserta sono arrivate tra virgolette le prime critiche, secondo te con l'arrivo di Sottile, la mentalità del Catania è cambiata? Ma questo lo possiamo dire più in là, sicuramente il mister Sottile ha una mentalità vincente, l'ha dimostrato l'anno scorso e l'ha dimostrato già quest'anno partendo soprattutto dalla Michele, Coppa Italia e tutte le partite che abbiamo fatto, fino adesso non abbiamo mai perso, quindi sicuramente questa è una mentalità vincente perché se vuoi vincere sempre, io sono un po' così, anche quando gioco a carte voglio vincere sempre, quindi penso si parta tutta da lì, rispetto all'anno scorso non posso ancora paragonarlo perché comunque l'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, vediamo, vediamo. Senti invece ti volevo chiedere cosa significa per curare l'amicizia? L'amicizia è importantissima perché un amico, io sono molto selezionatore, non ho tantissimi amici, ne ho pochi che forse mi stanno anche guardando, li saluto, questi sono i miei due migliori amici italiani perché poi ne ho anche in Germania. Tra l'altro uno di quelli è abbastanza importante per te, Gaetano è come un fratello e me lo sono sempre trovato in qualsiasi momento. Positivo o negativo è stato sempre al tuo fianco? Come deve essere un amico? Solo positivo, non ho mai avuto una discussione con lui da quando è che vivo in Italia, è stato la prima persona che ho conosciuto e gli voglio bene. Senti ma a proposito, qua tra l'altro ci sono altre foto che abbiamo trovato con te in vacanza sempre con gli amici, quindi per te sono dei punti di riferimento, dei punti fermi e questo è bellissimo perché gli amici diciamo sempre sono fondamentali per tutti. A proposito di incontri, io sono curioso di chiederti come hai conosciuto tua moglie Patrizia? Mia moglie me l'ha fatta conoscere la Padula, un attaccante adesso al Genova con cui siamo rimasti in buonissimi rapporti, che lui andava sempre da Patrizia, da mia moglie a farsi le lampade e mi diceva sempre un giorno vieni con me che c'è una bella bionda che lavora da lì estetista, parrucchiera, ma io non ero molto interessato, ero un po' diffidente. Poi sono andato una volta e con la scusa mi sono fatto le sopracciglie che tra l'altro non c'è neanche bisogno di farle e ho visto questo occhio azzurro che mi ha colpito e da lì è partito tutto. Quindi hai fatto tu il primo passo? Eh certo, forza. Senti nel frattempo stanno scorrendo altre immagini, credo che questa sia un'altra persona molto importante per te. La metà del mio cuore è mia sorella. Quanto è importante per te la tua famiglia? Eh tantissimo perché siamo legati tantissimo soprattutto quando è morto mio padre, quindi loro, i miei nonni, mia mamma. Questa è un'altra persona che è stata molto importante per te e credo che sia la tua prima tifosa. Sì, 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 molto critica pure. In che senso molto critica? Eh, me le dice sempre, diciamo trova sempre il pelo nell'uovo per comunque, per il mio bene e per farmi rendere sempre al meglio. E in questo poi sei il piccolo curiale, il futuro? Questo è l'amore della mia vita, sì. Lui mi ha cambiato totalmente, mi ha fatto maturare come uomo perché prima facevo un po' di cavolate e sono molto più responsabile, sì. Grazie a loro. Io continuo a leggere le domande che arrivano perché sono veramente tantissime, Davis, tantissime. Leggo quella di Simone Imbrogiano che dice, ciao Davis, quanto pensi possa pesare l'effetto Massimini in questa stagione a partire da domani col Trapani? L'anno scorso sembrava che voi nelle parti più importanti... No, ma per me erano tutte cavolate queste, perché comunque avere un pubblico così al proprio fianco è solo... c'è una motivazione in più. siamo una squadra matura, non siamo dei ragazzini che sentono la pressione del tifoso, cioè non deve proprio esistere, anzi, penso che tantissimi giocatori che stanno altrove vorrebbero stare al nostro posto per giocare davanti a un pubblico così. Quindi da domani speriamo di dare una grande risposta al nostro pubblico contro un avversario importante e di continuare la nostra cavalcata. Nel frattempo ti arrivano i saluti di Alfio e Sara Abattiato, Andrea Di Guardo ti dice grande bomber, tu continui ad essere sempre amato, ma è normale non solo perché segni ma anche per come sei come persona e questi tifosi l'hanno capito. Paolo Cosentino, Davis, andiamo a prenderci la Serie B, ce la meritiamo. Domani dice Paolo, sempre Cosentino, dobbiamo vincere perché è categorico, domani non si accettano sconfitte. Stefano Lazzara ti chiede una cosa, ma credo che sia, non puoi dircelo ancora, nel senso se segni al trapani esulterai, non ci puoi dire se esulterai. No, ma non esulterò per rispetto della mia città, diciamo, perché comunque sono le mie origini. Gabriele Danzuso fa un passo indietro e ti chiede, Davis, come hai preso il fatto che non ci hanno ripescato? Comunque vada sempre, forza Catania. Ma l'abbiamo presa male a livello mentale, morale. È stata difficile da digerire perché comunque avevamo festeggiato ed eravamo già con la testa in Serie B. Però allo stesso tempo ci ha dato quella carica, quella rabbia che la stiamo trasformando in campo per riprenderci questa Serie B. Davis, io una cosa che ti volevo sempre chiedere, mi sono sempre dimenticato di chiederti. Tu a Cittadella avevi il 9, a Lecce il 20, però la maggior parte delle volte hai avuto l'11. Perché hai scelto l'11? Perché sei colonnese? Perché l'11 a Colonia ha un significato molto importante. No, no, no. Io sono cresciuto con il 9. Poi un anno andai a Trieste con Galderisi. c'era Godias che era un 9 e quindi siccome giocavamo insieme, anzi io spesso giocavo anche a sinistra e Galderisi mi diede l'11 e da lì feci bene, andare a Grosseto mi sono ripreso l'11, andare a Frosinone dove sono esploso con l'11 e allora è diventato il mio numero. A Lecce avevo l'11 inizialmente, poi non mi portò bene perché ebbe un infortunio e ai playoff poi scelsi il 20. A Catania l'hai ripreso e ti ha riportato fortuna. All'anno scorso 16 gol, 15 regola al season. Anche il Trapani avevo l'11. Senti, a proposito di Frosinone, la tua carriera, se la regia ci manda queste altre foto che abbiamo trovato anche grazie a più di un complice stavolta, c'è il Trapani, ma soprattutto c'è quella maglia, quella maglia del Frosinone che credo che a te ricordi tante belle cose fra cui una promozione in serie B, tua moglie è pure di Frosinone. Il mio figlio è nato a Frosinone pure. Quindi sei legatissimo. Sì, 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 Frosinone è stata anche lì una società che venivo da un momento triste di Grosseto dove sono stato veramente male e a Frosinone sono esploso appunto. Poi ho fatto un piccolo errore che andai via a gennaio della serie B dove Frosinone andò in serie A nonostante avessi fatto 9 gol, è stato un po' il mio rammarico più grande perché Frosinone era casa mia, casa di mia moglie, di mio figlio e sicuramente avrei partecipato alla serie A poi l'anno dopo. Quindi è un grosso rammarico che mi porto dietro e questo me lo sono anche portato poi a Trapani, questo rammarico e le mie prestazioni hanno influito anche per questo a Trapani. Beh, ma hai tempo di recuperare. Adesso sono a Catania. Catania è il mio ultimo treno e spero di arrivarci insieme a tutta la città in quella categoria che tutti noi sogniamo da piccoli. A proposito di successi passati e futuri che ci auguriamo, c'è una cosa che ti volevo chiedere. Abbiamo trovato pure quest'altra foto a proposito di successi che è un pallone. Questo è bellissimo secondo me, ce la devi spiegare perché questo è fantastico. Questo è un tifosissimo del Frosinone, Gerardo, con cui sono affezionato, che mi ha fatto questo striscione con la scritta in siciliano, attento a lui. E a seguire c'è un pallone, che credo sia una tripletta questa. Sì, questo è un tripletta che feci contro il Trapani con il Frosinone. Eh sì, l'unica tripletta che ho fatto in carriera, mi sembra, tra i professionisti. Me lo sono portato a casa il pallone. E infine, dopo questo pallone, speriamo che domani ne possa portare a casa un altro. Ce lo auguriamo con tutto il cuore. E poi ce n'è pure un'altra foto che riguarda un festeggiamento, appunto, è quello che parlavamo prima, riguarda la Serie B con il Frosinone. Quindi che rimane in questo momento una delle tue gioie sportive più importanti, credo. Sì, 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 sicuramente è stato un campionato difficilissimo da vincere perché siamo arrivati secondi, abbiamo perso all'ultima giornata la promozione diretta col Perugia. E siamo ripartiti dai play-off da seconda e abbiamo vinto poi con il Lecce in finale. È stata una bella promozione che mi sono anche tatuato. Senti, io non so se sia una tua parente, però Paola Curiale ti dice il nostro bomber con tanti coricini. Poi, invece, Gabriele Reina ti fa una bellissima domanda, secondo me. Chi è, secondo te, Davis, l'anticatena di questo campionato? Secondo me, Trabani e Juve Stabia. Per esperienza, per organico, perché anche la Casertana potrebbe essere. Per me, Casertana non la vedo una squadra che possa arrivare tra le prime tre. Forse il Catanzaro, ma vedo più attrezzato il Trabani e la Juve Stabia. Invece Giuseppe Alecci ti fa una richiesta esplicita, come tutti i tifosi vorrebbero farti. Devis, se domani nel derby sei in una doppietta e vinciamo, mi regali la maglia e i pantaloncini? Se la regalo a te, la devo regalare non so a quanti altre persone. In questo momento non possiamo neanche prendere le maglie, quindi faccio un po' fatica a regalare le maglie. Se infatti non è l'unico, c'è anche Giuseppe Alecci, mi regali, spacciate, a me è normale. Sei uno dei giocatori più amati al Catania, è normale che la tua maglia sia una delle più ambite. A proposito di amore e di rispetto, quali sono stati i tuoi maestri quando eri ragazzino? Che ti hanno aiutato, mi dicevi, tu hai parlato qui in Italia, ma in Germania. Gli allenatori che ti hanno aiutato, quello che ti ricordi di più, che ti ha permesso e ti ha aiutato a capire che questo poteva essere il tuo mestiere, la tua professione? Ma ce ne sono diversi, uno è Alfredo, che ha origine qua di Bronte, suo figlio è il mio figlioccio tra l'altro. Siamo rimasti in buoni rapporti, lui allenava una squadra a Colonia che erano tutti 13 anni, 14 anni, io avevo 10 anni e giocavo già con i 13 anni e mi ha fatto crescere molto. Poi dopo di lui ho avuto un poliziotto allenatore, che anche lui mi ha preso al Fortuna Colonia, mi ha fatto fare questo salto in questa società e dopo questo poliziotto poi c'era un allenatore italiano, si chiamava Mimmo Martina, è pure siciliano, forse di Brindisi se non sbaglio, ma vive in Sicilia. Lui era quello che mi stava portando nel grande calcio in Germania, infatti ci è rimasto male quando poi ho comunicato la mia decisione di tornare in Sicilia, però lo ringrazio molto perché lui personalmente è andato a prendere il mio transfer al Fortuna Colonia e me l'ha portato fino in Sicilia perché non potevo giocare se non arrivava questo transfert. Ecco perché io non ho trovato il tuo cartellino del Fortuna Colonia, perché l'hanno portato via, perché quando andai a Colonia andai a cercare il tuo cartellino e mi disse no, purtroppo è uno di quelli che non abbiamo più perché è stato portato in un'altra federazione che era quella italiana. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, qual è stata la tua gioia più grande, sia da calciatore, da calciatore penso la promozione in Bicol Frosinone, e di uomo? Vabbè, la gioia più grande da uomo sicuramente è la nascita di mio figlio, la nascita di mio figlio è stata una cosa bellissima, emozionante. Da calciatore sì, Frosinone, ma anche a 18 anni ho fatto le mie prime panchine in Serie A, ho fatto una panchina anche in Coppa UEFA a Istanbul, è stata una bellissima esperienza. C'è Ciccio, io scorro nel fattempo, Ciccio Marletta che ti chiede di continuare così, di continuare adottare e a sudare come fai sempre, e invece Simone Sorbello ti chiede, secondo te, Davi, se è più forte il Catania di quest'anno o quello della scorsa stagione? Secondo me sono due squadre simili, forti entrambi, e quest'anno forse abbiamo qualcosa in più a livello caratteriale, forse l'anno scorso avevamo più qualità, però quest'anno siamo una squadra più cattiva, più concreta, quindi sono convinto che raggiungiamo l'obiettivo. Io mi domandolo, tu ami giocare a calcio, quindi fai il calciatore, fai il marito, fai il papà, abbiamo detto, cosa ti viene meglio? O anche questa è la cosa che ti viene più difficile fare? Perché sono tre lavori molto impegnativi. Sì, il calcio sicuramente mi stanca molto durante la giornata, però è ricompenso poi quando arrivo a casa, c'è mia moglie e mio figlio, giocando con mio figlio, anche se è stancante, però mi fa dimenticare la stanchezza calcistica e quindi mi rigenera. A parte il calcio hai qualche hobby che ti piace, anche per rilassarti? Sì, mi piace giocare a carte, poi sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare a casa sul divano, guardare la televisione. La televisione, noi abbiamo scoperto una cosa, che tu hai una passione, che è un altro sport, che è il MotoGT. E tra queste c'è una bellissima coincidenza, che questo è il pilota che tu ammiri di più, che ha un numero bellissimo questo pilota, che è il 46, e che ti ha con una, quindi c'è una doppia passione. E appunto il 46, che è la moto di Valentino, il numero di Valentino Rossi, e poi il 46 è l'anno di nascita del calcio Catania. Un calcio Catania che, se va alla seconda immagine, abbiamo un'immagine bellissima di Filippo Galtieri, e quello ricorda appunto il gol di sabato a Caserta contro la Casertana. Ti volevo anche chiedere, quali sono gli elementi, visto che tu comunque un campionato di Serie C l'hai vinto, quali sono gli elementi imprescindibili per poter vincere un campionato difficile come quello di Serie C? Ma sicuramente il segreto sta nei giocatori che giocano meno, che devono tenere botta di non distruggere il gruppo, il percorso, e di farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa, perché 11 giocatori non vincono il campionato. Questo è, secondo me, una cosa molto importante. E questo Catania, infatti, è una sensazione che viene all'esterno, che comunque si sia formato subito un grandissimo gruppo, una grandissima squadra. Cioè c'è proprio una sintonia e lo si vede anche nel gioco. Ah no, dall'esterno è questa l'impressione. Lo confermi anche tu? Sì, assolutamente. C'è un'altra cosa che sta andando molto bene. Nel frattempo io torno a leggere altre domande, io ti rubo due secondi ancora. Infatti Ines Giossa ti chiede, qual è il valore aggiunto nella squadra di quest'anno rispetto a quale è l'anno scorso? Ho detto prima la concretezza della squadra, è una squadra molto più convinta di quello che deve fare, è una squadra molto più cattiva. Magari l'anno scorso provavamo più a giocare la palla e prendevamo ripartenze, quest'anno siamo più equilibrati. Squadra concreta, però anche squadra che ha tanti personaggi goliardici, chi è nello spogliatore che fa più scherzi di tutti? Saro Bucolo credo che sia evidente. No, ma Saro... Stai sfatando quindi una leggenda, bellissimo, mi piace. No, Saro non è... Quello più casinista... Ci devo pensare. Marotta? Sì, Ale è uno di questi. Ciancio è simpaticissimo, ha sempre la battuta pronta. Poi c'è Aia, uno che rompe sempre le scatole. Sì. Poi per il resto sono tutti bravi ragazzi. Qui c'è Andrea Di Guardo che ti chiede una cosa. Bomber, quanti punti serviranno per arrivare ai primi? Sicuramente più dei 70 dell'anno scorso? Sì, penso... Dipende poi la vita erbese se rimane nel nostro girone o no, dipende dalle partite. L'anno scorso eravamo 19, se non sbaglio. Se siamo 19 anche quest'anno dobbiamo farne 75. Mi sembra un'ottima risposta. Davide, se tu quando eri ragazzo guardavi la televisione, guardavi qualche cartonato in particolare, per esempio, The Birne Maya, Lape Maya, che è uno dei più famosi... Tom & Jerry, mio padre era appassionato di Tom & Jerry. Guardavo molto questo cartone. Senti, non ti chiedo la siga di cantarmi la siga, perché speravo che mi dicessi The Birne Maya, perché in Germania era una delle più famose... Lo guardavo, però ero più appassionato per Tom & Jerry. Senti, qual è il sogno del cassetto di Davide Scuriale? Il mio sogno è quello di riportare il Catania in Serena. Io ti chiederei a questo punto, se puoi per fuori, di rimetterti le cuffie, perché noi vorremmo farti sentire e vedere un video. se la regia lo manda e siamo pronti. Ok, può andare. Tanto, tanto così. Quanto va bene, papà? Tanto, tanto così. Fai vedere, quanto? Quanto? Credo che sia la gioia più grande della tua vita, come hai già detto. Non si può descrivere. Poi il legame che abbiamo noi, specialmente dopo questa estate, perché lui è stato tre mesi a casa, al mare, e io ero qua, che non potevo spostarmi, per ritiro. Ha sentito molto la mia mancanza, adesso che è tornato qua con me, siamo affezionati ancora di più. Già, gli piace il calcio a Vito? Ma, te lo direi la verità, non proprio come desideravo, però ancora è in tempo. Vabbè, c'è tempo per poter fargli amare ancora di più il calcio. Matteo, buon accorso, ti dice domani dobbiamo vincere. Antonio, buon incontro, ti fa una promessa domani, ci sarà un massimino caldissimo. Tra l'altro, tanti abbonamenti, ha fatto il Catania quest'anno oltre 6.700, quindi abbiamo superato i regoli dello scorso anno. La campagna abbonamenti si fiderà domani. Chi vuole, secondo me, deve andare a fare ancora un abbonamento, perché questo anno ha bisogno di incitare la squadra come non mai, perché dobbiamo, anche in questo senso, la squadra ha bisogno dell'aiuto dei tifosi, che non è mai mancato, questo sia ben chiaro. Invece, Simone Capuento, ti fa la domanda opposto, io ti facevo chi era il casinista dello spogliatoio. Lui invece ti dice, chi è il più solitario dello spogliatoio di questo Catania? Il più introverso? Il più introverso? Baraglie. Baraglie è un ragazzo solitario, sta sempre per i fatti suoi, non dice mai una parola, un bravo ragazzo. Senti, invece, questo tipo... Vassallo. Ah, Vassallo pure? Anche Vassallo. Però allora, gli dai un assist al direttore, Lomono, che questo è stato detto, speriamo che Vassallo sia più vivace in campo che fuori, speriamo, non gli dai altri assist. No, invece, ti volevo chiedere, tu, quando eri ragazzo e eri in Germania, facevi, non solo il calciatore, facevi anche qualche altra cosa? Cioè, facevi un lavoro per mantenerti, oppure facevi solo calcio? Facevi solo il calciatore? No, no, facevo solo il calciatore. Andavo a scuola, e poi il calcio era ed è la mia vita, quindi ero fissato con il calcio da quando ero piccolo, distrutto tutti i mobili che avevo in casa e per fortuna sono riuscito a fare il calciatore. Ti ispiravi, quando eri in Germania, più ai giocatori e agli attaccanti tedeschi tipo Föller, Riedler, Klisman, o quelli italiani? Quelli italiani, quelli italiani. Seguivo molto il campionato italiano, Ronaldo, l'Inter, poi Del Piero, Treseguet, la Juventus, ero più appassionato per gli attaccanti italiani. Che per quelli tedeschi, nonostante comunque Klisman e Föller fossero, però del resto Baggio era un fenomeno di giocatore. Niente, ci sono anche altre domande, però, ah, questo qui pure, questo dei punti, faremo, ancora una volta, faremo scoppiare il Massimino, ti chiedi invece Paolo Lomonte, Davis, qual è l'attaccante più forte con il quale hai fatto, hai giocato in coppia? Ce ne sono un bel po', partendo proprio dalla Padula, Dionisi, Ciofani, Ciofani, Godeas, chi altro c'è? E ora puoi dire anche Marotta, perché sei una bellissima... Ale, sì, Ale è un grande attaccante, sì, ovviamente anche lui, ancora, ci abbiamo giocato solo una volta insieme, quindi... però oggi c'è vista a Caserta, c'è vista una grande intesa fra quei due, comunque... Sì, ci sono due attaccanti diversi, comunque che si sacrificano molto per la squadra, e ci vuole, perché quando giochi poi con due attaccanti, gli attaccanti si devono sacrificare per mantenere l'equilibrio della squadra. Davis, se noi siamo alla fine, intanto io ti ringrazio ancora, grazie a voi, e speriamo che domani ci portate altri tre punti, che sono importanti per questa scalata, verso questa sede B, che tutti i tifosi vogliono e sognano, perché è troppo tempo che il Catania non è una teoria di questo livello, ed è giusto che ci torni. Grazie, in bocca al lupo, e a fine puntata mi devi comunicare il vincitore, dovrai scegliere, rivedremo insieme tutte le domande, mandiamo allora in questo momento, mi dicono, mandiamo la linea alla regia, o no? Ho capito male? Ah, direttamente no, allora, a fine domani mattina sulla pagina Facebook di Ultima Sport, troverete il nome del vincitore, che sceglierà ora con me Davis, con calma, perché sono tantissime le domande che sono arrivate. Grazie ancora Davis, grazie a chi è stato con noi stasera, ci vediamo domani con la puntata di Ultima Sport Match Day, condotta da Simona Pulvirenti, ospiti studio ci saranno Ciccio Cozza, l'ex sportiere Armando Pantanelli del Catania, l'ex sportiere rossazzurro Armando Pantanelli, e Sergio Barbagallo, che è il nostro opinionista. Grazie, a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.